buonasera buonasera benvenuti a tutti in questo video vi parlerò di un personaggio veramente straordinario un'icona dorata del diciottesimo secolo l'uomo del carpe diem a cui mi sono ispirata per uno spettacolo che si intitolava memorie dell'uomo che amò le donne messo in scena proprio nella sala grande del circolo dei lettori ne vedrete alcune immagini in questo video insieme al varitono ignazio de simone e al pianista andrea turchetto colgo l'occasione ancora per ringraziarli e dopo qualche anno da quando abbiamo messo in scena questo spettacolo perché devo dire senza falsa modestia che fu davvero un successo quindi avete già capito che sto parlando naturalmente del grande veneziano giacomo casanova giacomo gerolamo casanova nasce a venezia nel 1725 dall'attrice zanetta farussi e si vocifera dal nobile veneziano michele grimani si vocifera ma si è piuttosto certi visto la rassomiglianza tra padre e figlio venezia fu per lui una città amatissima che dovrà purtroppo abbandonare più volte soprattutto nel 1756 dopo la celeberrima evasione dai piombi le carceri veneziane dove era rinchiuso con l'accusa di libertinaggio dall'inquisizione e poi in altre occasioni in ogni caso fin da giovane comincerà a viaggiare per tutta l'italia e poi per il mondo intero il nostro ebbe rapporti con i maggiori intellettuali dell'epoca da rousseau a voltaire personaggi bizzarri come il conte di cagliostro il conto di saint germain lui stesso si faceva chiamare il conte di sengal pur non avendo un titolo nobiliare vero e proprio probabilmente conobbe mozart e sicuramente conosceva molto bene lorenzo da ponte il librettista suo grande amico veneziano pure lui e altrettanto libertino di dieci anni più giovane e poi conobbe personaggi della vita politica e di corte da madame de pompadour a caterina seconda di russia quindi l'avventuriero veneziano era anche un prestigioso maestro della massoneria allora inteso in senso positivo e può essere considerato come dire una sorta di agente segreto delle logge in perenne missione leggere comunque le memorie di casanova è davvero un'esperienza spassosa e coinvolgente che vi consiglio molto c'è di tutto viaggi migliaia di incontri lavori più disparati casanova 19 anni inizia come abate diventa militare poi inventa lotto apre un'azienda di tessuti fa l'alchimista insomma una girandola coloratissima ma l'argomento per cui casanova è soprattutto conosciuto al grande pubblico sono naturalmente le donne casanova è considerato appunto insieme a don giovanni il seduttore ed è stato a lungo detestato prima di tutto dalle femministe che lo vedevano come colui che aveva usato le donne in realtà è vero il contrario d'altronde è lui stesso a rivelarcelo sentiamo cosa dice l'idea del seduttore gli è odiosa il seduttore che veda nella seduzione il proprio fine ultimo è un uomo abbietto nemico giurato delle donne un delinquente dotato di pregi di cui è indegno casanova dunque più che un seduttore è un amatore e colui che ama perché è amato e c'è una bella differenza non un corruttore ma come dice baccolo grande biografo di casanova insieme a piro chiara un correttore di destini dato che una donna una volta uscita dalle sue mani non sarebbe mai più stata la stessa tanto lui sapeva esaltarne le doti sessuali intellettuali e spirituali molti si sono chiesti quale fosse il suo metodo per la conquista delle donne probabilmente non ne aveva semplicemente le adorava sentiamo proprio dalla sua viva voce cosa ci dice casanova lo stupore che su questa terra cammini la donna e con il suo universo estraneo e complementare e quella donna con quegli occhi con quel naso quella bocca sempre come se fosse la prima volta senza esperienza e senza usura anche lo scrittore giovanni commisso azzarda un'ipotesi il suo metodo è di ingrandire la donna di darle conoscenza della sua bellezza delle sue risorse creare nella donna il senso delle sue possibilità amatorie valorizzarla dare alla donna consistenza nella sua propria sensualità come vedete non è cosa da poco casanova tra l'altro invece di essere un seduttore è molto generoso e generoso con le sue donne soprattutto con quelle in difficoltà non le abbandona mai come fa il seduttore don giovanni le aiuta economicamente anche moralmente certo lui non è uno stinco di santo ma non le abbandona appunto e le a casa sempre bene poi non scordiamolo è molto molto generoso anche a letto cosa che non guasta mai analizzando gli stuardo e mavi mi sono accorta che i rapporti di casanova con le donne ruotano principalmente intorno a quattro temi principali il gioco l'amore il piacere e la bellezza oggi vi leggerò alcuni stralci dei suoi incontri con questi personaggi femminili pieni di grazia di malizia e di intelligenza soffermandomi sul tema diciamo così più inerente al mio gruppo di lettura di quest'anno cioè il corpo e quindi il piacere nell'introduzione alla storia della mia vita di casanova lui scrive coltivare i piaceri dei sensi è stata per tutta la vita la mia principale occupazione sentendo minato per l'altro sesso l'ho sempre amato e mi sono fatto amare per quanto possibile nelle sue memorie emerge subito lampante l'assenza di un grande tiranno e cioè la gelosia non dimentichiamoci che siamo in pieno settecento il secolo dell'illuminismo e del libertinismo filosofico con conseguente libertinaggio sessuale quindi la gelosia tra di loro non esiste nel patto libertino sentiamo ancora una volta baccolo cosa ci racconta le donne tutt'altro che gelose se lo passano di mano in mano orgogliose affettuose come un dono prezioso ecco vedete che era un uomo molto ricercato nell'oceano di tutti gli episodi libertini ne ho scelto uno in particolare che è molto simpatico ed è il suo incontro con la monaca veneziana mm lei ha 23 anni e casanova ne ha 28 quindi sono giovani sono innamorati e iniziano questo loro idilio la monaca però ha un amante che poi si rivelerà l'ambasciatore francese a cui piace guardare non visto quindi un ambasciatore francese wire per lettera mm confessa a casanova che l'ha già lasciato guardare una volta senza dirglielo quindi è un po preoccupata e non vorrebbe che lui fosse offeso e gli chiede se l'ultimo dell'anno può lasciare il suo amante a guardarli mentre fanno l'amore spaventata appunto che preoccupata che casanova si rifiuti lui invece le risponde in maniera come al solito divertente e simpatica e adesso vi leggo cosa gli risponde nella lettera eccoci ciò che mi hai detto sul conto del tuo nobile amico mi ha fatto conoscere il suo carattere ora lo credo amico anche mio e lo amo se un sentimento di pudore non impedisce a te dimostrarti a lui tenera e innamorata con me come potrei io lungi dal vergognarmene non essere fiero può forse l'uomo arrossire della propria gloria io amor mio non posso vergognarmi di averti conquistato né di lasciarmi guardare nei momenti in cui spero di non sembrarne indegno vedete che quindi casanova è d'accordo e quindi iniziano la loro recita il mio amico mi disse mm non è ancora arrivato quando sarà là dentro ti strizzerò l'occhio vedi lo schienale di quel divano appoggiato alla parete tutti quei fiori in rilievo hanno nel mezzo dei fori che danno sul locale retrostante dentro ci sono un letto una tavola e tutto l'occorrente per chiunque voglia rimanerci divertendosi a osservare ciò che avviene qui mm aveva i capelli sciolti sulle spalle indosso portava una vestaglia azzurra alle orecchie aveva orecchini di brillanti e il collo era nudo un fishù di velo di seta e di filo d'argento lasciava scorgere la bellezza del seno e ne mostrava il candore attraverso la scollatura trovai mirabile il rossetto che si era messa come usano le donne di corte a Versailles il bello di questo trucco consiste nel modo negligente dunque nel modo negligente in cui lo si sparge sulle guance non si vuole che sembri naturale e lo si mette per il piacere degli occhi i quali scorgono i segni di un'ebbrezza che promette smarrimenti e slanci amorosi mm mi disse d'averlo messo per far piacere al suo amico che lo gradiva le risposi che a quel punto sarei stato tentato di crederlo francese a quelle parole mi strizzo l'occhio il suo amico era arrivato era il momento di cominciare la commedia ci preparammo un punch e poi ci divertimmo a mangiare le ostriche passandocele quando le avevamo già in bocca lei mi offriva sulla lingua la sua e io le mettevo in bocca la mia non c'è gioco più lascivo e più voluttuoso tra due innamorati e anche piuttosto comico e la comicità non guasta perché si ride quando si è felici e come buona la salsetta che accompagna un'ostrica succhiata dalla bocca del proprio amore e la saliva quella salsetta l'amore non può che aumentare di intensità quando lo si mastica e lo si inghiotte la bella monaca va a cambiarsi mentre aspettavo mi avvolsi intorno ai capelli un fazzoletto di mazzuli patan che mi girava quattro volte intorno alla testa dandomi l'aspetto temibile d'un despoto asiatico nel suo serraglio spogliai quindi imperiosamente la mia sultana che nel frattempo era rientrata fece lo stesso con me e poi la coricai e la soggiogai secondo le più rigorose regole godendo dei suoi orgasmi un guanciale che le avevo adattato sotto la schiena e il suo ginocchio piegato dalla parte opposta allo schienale del sofà dovettero offrire al suo amico nascosto uno spettacolo voluttuosissimo dopo esserci lavati ci mettemmo uno accanto all'altro davanti a un grande specchio ammirando la bellezza delle nostre immagini e bramose di goderne lottammo in tutti i modi sempre in piedi e alla fine dell'ultimo scontro mm cadde sul tappeto di persia che copriva il pavimento con gli occhi chiusi il capo riverso distesa sul dorso le braccia e le gambe come se l'avessero staccata in quel momento da una croce di sant'andrea sarebbe sembrata morta se non fosse stato per il pulsare del cuore l'ultimo colpo l'aveva sfinita ecco questo è un po un saggio degli incontri tra la monaca la bellissima monaca mm grande amore di casanova e casanova è un saggio di questa tematica del piacere di cui vi parlavo ma voglio chiudere qua il nostro breve video intanto sperando di avervi invogliato a leggere le memorie di questo bravissimo autore è erudito voglio chiudere con un passaggio sull'amore sull'amore che comunque per casanova è stato fondamentale nella sua vita una volta anziano si ritirano come bibliotecario a dux in boemia scrive le memorie e tra l'altro scriverà appunto questa questa piccola cosa sul sull'idea dell'amore che cos'è mai l'amore ho letto tutto ciò che hanno scritto i cosiddetti saggi e ci ho riflettuto sopra a lungo da vecchio ma ciò nonostante non ammetterò mai che l'amore sia una cosa sciocca o vana è una sorta di follia su cui la filosofia non ha potere una malattia cui l'uomo è soggetto in ogni età e che è incurabile se colpisce nella vecchiaia ineffabile amore sovrano della natura se è un'amarezza di cui non ve nulla di più dolce una dolcezza di cui non ve nulla di più amaro un divino prodigio che si può definire solo con paradossi questo punto non mi resta che salutarvi e spero di rivedervi presto anche dal vivo ciao ciao grazie